Nei primi mesi del 2020 potrà essere presentato un progetto definitivo per la bonifica della falda apuana di Massa Carrara che si conferma fortemente inquinata. Lo ha detto l'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni che insieme ad ARPAT, SOGESIT, Società del Ministero dell'Ambiente e ai sindaci di Massa e Carrara ha illustrato in regione a Firenze i risultati del rilevamento condotto nell'area SIN-SIR, sito di interesse nazionale e sito di interesse regionale tra i torrenti Carrione e Frigido. In alcuni punti la concentrazione degli inquinanti, tra cui il cromo esavalente, supera di 10 volte il limite di legge. Abbiamo messo risorse, le ha messe il Ministero, ci sono 25 milioni e mezzo disponibili, vogliamo spenderli, vogliamo spenderli nel modo migliore e più rapido possibile e quindi credo che già nei primi mesi del 2020 potremo tornare in questa sala Pegaso a presentare un progetto definitivo che riguarda le attività, le azioni da mettere in campo che dovranno anche essere in qualche modo integrate anche con analoghi attività che il privato sta facendo. Le analisi sono state realizzate in due fasi di lavoro, sia nel periodo di magra, il livello più basso della falda, sia in quello di morbida e il livello più alto con oltre 100 parametri analizzati. La falda ha molte disomogeneità all'interno, quindi abbiamo delle zone in cui le concentrazioni sono più elevate, di certi inquinanti, altre in cui sono meno elevate. Bisogna bonificare chiaramente a partire dai punti in cui le concentrazioni sono più alte. Diciamo che sono state create le condizioni finalmente per partire con una bonifica dopo tanti anni che si aspettava. Le indagini svolte hanno permesso di individuare i punti in cui la contaminazione della falda è più concentrata. Sono circoscritte a quelle che poi rimangono anche le principali, le aree perimetrate ancora all'interno del sito di interesse nazionale, che ovviamente proprio perché sono nel sito di interesse nazionale costituiscono il principale elemento di preoccupazione o comunque di rischio per la falda puana. Nel corso del rilevamento presentato in regione Sogesit ha realizzato anche un modello geologico 3D per capire dove si concentrerà la contaminazione della falda nei prossimi 20 anni.